ciao ragazzi benvenuti in questo video oggi vi spiego come smontare il damper della fanatec per poterlo fare dobbiamo andare a serrare il grano che utilizziamo perché con le vibrazioni col movimento non vada a ruotare e variare la sua durezza che è quello una volta serrato a modo potremmo svitarlo e sfilare questa cartuccia fatto ciò dovremmo allineare i due fori sia quello interno che quello esterno si vede proprio in controluce vedrete passare la luce all'interno una volta allineati potremmo andare a reinserirlo nell'ammortizzatore come vedete qui ho messo una marea d'olio per farvi vedere che quando andrò a inserirlo a un certo punto lo vedremo uscire dalla parte superiore per capire se la quantità dell'olio è giusto dobbiamo fare un passo indietro cioè andremo a svuotare il damper ne inseriremo una parte sino ad arrivare a due centimetri dall'orlo del damper stesso e andremo a inserire la cartuccia ovviamente l'olio in eccesso uscirà grazie a quel foro superiore nel mio caso io ho messo olio oltre la sua capacità a questo punto io quando lo andrò a chiudere come vedete adesso sto spingendo verso il basso e l'olio continua ad uscire da tutte le parti in questo modo ci sarà troppo olio come capisco se l'olio è troppo quando lo andrò a chiudere metterò la regolazione al minimo cioè a uno praticamente non riuscirò quasi a comprimere l'ammortizzatore a questo punto dobbiamo fare un passo indietro e cioè risvitarlo e far uscire una piccola quantità d'olio l'importante che fra quello che noi andiamo a togliere e a provare non ci troveremo ad avere un ammortizzatore che sentiamo dell'aria al suo interno se questo accade dobbiamo aggiungere qualche goccia d'olio cioè goccia se invece l'ammortizzatore è troppo duro dovremmo andarne a togliere qualche goccia a questo punto dovremo trovare il giusto compromesso che all'interno dell'ammortizzatore non si senta fare il classico che vuol dire che c'è dell'aria al suo interno quindi andremo ad aggiungere se invece l'ammortizzatore non riuscirà a lavorare rimarrà bloccato a metà corsa come adesso vi farò vedere c'è troppo olio a questo punto dovremo trovare il giusto non compromesso ma la giusta quantità d'olio e non dovremo assolutamente avere aria al suo interno perché lui non lavorerà le prove vanno fatte in questa posizione e non girato orizzontale o quant'altro perché qui troveremo tutta l'aria in alto come in questo caso ora io sono andato a stringere la brugola per poi poterla di nuovo riavvitare e chiudere questo piattello parlando dell'olio l'olio ne esistono di diversi tipi io ho utilizzato un oliolosi da auto un 17.5 che è un WT che è diverso dai CST quindi potrebbe come vedete adesso non riesco praticamente a schiacciarlo perché sono a 8 o 9 adesso andrò a regolare a 1 nella realtà si muoverà ma pochissimo tornando al discorso dell'olio potreste utilizzare un CST 10 12.5 per variare ovviamente la sua durezza più l'olio sale di numero più ha un potere frenante più è basso meno forza ha come potete vedere adesso ho regolato a 1 ma all'interno dell'amortizzatore c'è troppo olio quindi voi non dovrete fare altro in questo modo io andrò a togliere due gocce tre lo farò colare un pochettino chiaramente questo è un esempio esagerato perché in questo questo modo non si fa ma vi fa capire come andare a sostituire l'olio proprio dell'olio voglio dire due parole l'olio chiaramente non potete mettere un 500 dentro a questo tipo di ammortizzatore potrete andare a mettere un 200 o un 150 si utilizzano CST si utilizzano gli oli WT perché hanno delle vischiosità ancora più basse detto ciò potrete decidere voi quale olio è migliore io ho messo un 15 ovviamente cambiando la vischiosità cambia anche la velocità e la durezza quando lo andrete a schiacciare quindi sarete voi a regolarvi con quale tipo d'olio la questione è che dopo un po' questo ammortizzatore l'olio lo perde perché può capitare a qualcuno che si trova ad avere l'ammortizzatore vuoto e non sapere né come fare né quale olio mettere quindi andrei a comprare questo olio che potrebbe essere l'osi 12.5 WT e lo andrete a provare sicuramente avrete lo stesso identico damper originale per questo video è tutto lasciatemi un vi piace e iscrivetevi al canale ciao e alla prossima